Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono i giovani, se vogliono capire la vita. Io già mi fa piacere stare a mezzogiorno. Non c'è mia figlia che ha la passione. E allora ci ho appreso, ci ho quasi. Ti insegna qualcosa? Rannazzo, 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 si fa la piazza. Questa è Santa Maria. Che ne insegna? Centrocentro. Quindi, ma lei che insegna? Quindi, ma lei che insegna? Io sono a Piedamonte a Tegu. E poi non c'era Rannazzo perché mi trovava a Rannazzo, così scherzando. C'era un vecchietto che si voleva venire a scombare. Io ero anche russo. Ma ci sono i macchinari quelli di una volta a Cori? No, i macchinari sono cambiati. Io c'era una macchina che la dovevo portare qui. No, 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 non è l'estero. È un motore in testa che gira sulla carteggiana. È montato quando sei la carteggiana. È merocchio. No, no, è l'antica. Perché io lo trovo a dire che è la pala. A me piattono quelle a caricamento verticale. Questa qua mi piattono? Quale sua caracchina? Quella della cesterla. La cesterla verticale, con la pala. Certo, ma questa non mi piattono più. Ma questa è la pala. Non mi fido. Io va bene. Però d'altra parte lei ha dire a cercare sopra l'intervento. Ha dire a cercare il della lì. L'amice mia che c'è. No, l'amice mia che c'è. No, l'amice mia che c'è. L'amice mia che c'è. Perché la in due posti è facile che il bar c'è ancora quella la. No, io c'è uno. Ma io c'è uno. Io c'è uno. Questa macchina che c'è, questa macchina che c'è. C'è due. E poi c'è una carteggiana. E poi c'è una pianta. Fava frigo, ma c'è una pianta. Se non dosciava. Certo. E poi c'è. C'è il fustorezzatore. Piene maturazione. E un inviando molto per l'annazio. E' sorprendente. Io dovevo aprire una gelateria fuori. Prende male anche solo. Ma resta un'altra parte. No, non lavorerà più con di 3 mili. Ah, sì. Non ho altre cose. L'annazio è bello. L'annazio è bello. Si sta fatendo perdere l'amministrazione, le cose. Ma non ho visto il regime. Poco tutto. Poco tutto massacrato. Questa è la macchina che cerca lei. Ce l'hanno i Zoldani. I? I Zoldani. All'ongarone. Zoldani? I Zoldani, ma riesce ad avere gelato. Io adesso fermo. All'ongarone? Si. Io ho un bottino, il ghiaccio, guarda come un sardo. Il sardo è questo che fa la granita. Perché a me la consistenza della granita, secondo me, non deve essere così compatta, tipo gelato. Scusa, scusa. Allora, c'è. Ci sono due culture diverse. Allora, a ghiaccio, se viaggia un'arrascata con qualcosa, con la paletta e la ghiaccio, decidere che la maniera è buona. Voi ce ne avviciniamoci, cominciamo a beggiare. Non mi piace. La granita deve essere un po' più fluida. Più fluida. Più fluida. Perché adesso ci metto un po' scolta. O ci metto una cosa. Diventa un gelato poi, un po'. Diventa più torpotenza poi. A soppare. A soppare. Ora, io c'è un prodotto per questo po' fuori fuori, che è difficile. Ho dovuto provare la sua. Però, la granita, oi, interpretata, è agitante. Perché io, come cultura. Per lo meno, chi lo carico io, giusto? Io la vedo che loro, qui hanno la granita, chiedono che io la puoi prendere con la paletta. Arrascono con la paletta e mi indurre già tutto. Vedi, in mezzo, c'è un altro gioco. No, a me questa mi piace di più. No, non c'è un altro gioco. Questa è un altro gioco. Che piti? La brioche e la tanzuppa. Cioè, la granita deve essere molleabile. Non è che essere qua a fare un vincitore a paletta. A me quella, se il mandorla fosse dura, però mi piace mangiare di più. Ma quella di frutta, essa è liquidosa. Liquidosa. Come la fa a carnavolo? Forse se lo ricordo a carnavolo. Lui è grande. Io vi ho qua perché... C'è più liquida quella. Ma la carnavolo è più liquida. È un po' più zuccherata. Ma non è un po' più zuccherata. Questo non lo so io. Il discorso di essere più zucchero, possibilmente, perché in modo che si sbaglia prima, no? È molto buono. Si sbaglia, ma non ne ho fatto lo zucchero, meno. Solo per chiedere la granita che fanno a ghiaccio, astringono il ghiaccio in labbra. La stringono? La stringono, dirvi no, la fanno girare il ghiaccio, in modo che si è più compatta. Lo vedo? Si. Per la mandala, per la mandala, per la mandala, per la mandala. Invece ne ho, cioè, vedere fuori. Io lo so perché molta gente, giusto? Molta gente che si è pigliato la granita, la oscia, cioè, viene le mie e mi dice, mancare che io la granita, la nasa ci ho fatto. No, ma che c'è quello che vuoi avere? Mi scusa, mi scusa, però te c'è parte. Devo accettare tutto. Certo, giusto? Poi bisogna vedere, come ha fatto, la comunità, devo accettare tutto. Allora io ci parlo, e ce ne va, perché? Perché? A vostra e moda. Niente, mi dice, a chiesto il ghiaccio. Allora ci riparte le acce, e non mi dice se, perché qui? Ho visto. Perché, naturalmente, più vengono da qua, a Caparano, più vengono da qua. Non è che alcun mi insegnava a niente, che era lui, era una voce moglie, nella mia città. Al chiesto di terra, e ne sono un avvocato. Il ghiaccio si chiamava Michele Lombardi. Michele Lombardi. E suo figlio ci paghiava, ma a Zappaletto Rizzo. Stiamo parando. Noi purtroppo non le ricordiamo adesso. Ah, parandano? No, e perché c'entra? Uno che vuole fare cultura, e vuole fare un prodotto, e allora noi qua, i granitari, ce li dovremmo ricordare tutti. Certo. I maestri, i pasticcieri, ce li dovremmo ricordare tutti. Perché noi oggi mangiamo le creme, ma ne che ne sappiamo. Certo. Non abbiamo la tradizione della cultura, dell'informazione, della storia. Certo, ma solamente uno... C'è questa storia di Iardinetta, chi la sa? C'è, i pasticcieri di Iardinetta. Ah, i pasticcieri, quindi quelli del settore, proprio quelli del settore. Ma guardi, se non lo sa lui, Michele, che conosce mille cose, stiamo parlando, non lo sa nessuno. I pasticcieri che avevano i formi con il gesso. Oggi, molto... Le forme con il gesso? Gesso, il gesso non c'entrava la frutta. Sì. Facevamo stampo, era odizolfo, odizolfo. Oggi siamo basati su buon salopone. Su buon salopone, perché tu, non salopone, puoi mettere sia un prodotto in pasta, e sia un prodotto ricordo, come potessi essere lo zucchero. Sì.